Hanno potuto vedere e assaporare i prodotti tipici del territorio, incontrare le aziende che realizzano le eccellenze no gastronomiche e conoscere meglio i metodi di lavorazione delle materie prime. Una due giorni che si è aperta oggi al centro Le Volte nel cuore del capoluogo valterinese organizzata dalla Banca Popolare di Sondrio, alla quale hanno aderito buyer dell'Europa Centro Orientale e più di 30 imprese dell'agroalimentare. Nell'ambito dei numerosi diversificati eventi che la Banca Popolare di Sondrio organizza per l'internazionalizzazione, questa volta abbiamo portato qui a Sondrio sei bias provenienti da Serbia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania e Bulgaria. Incontreranno 34 nostre aziende in due giorni, oggi e domani, aziende del settore food, quindi gastronomia, in oltre 100 incontri di B2B. A Milano, capitale mondiale della moda, nei giorni scorsi la banca ha organizzato un altro incontro di alto profilo. Abbiamo portato 8 buyers da 4 paesi esteri, tra cui la Corea del Sud, che hanno incontrato questa volta 24 aziende, nostri clienti operanti nel settore della moda. E in agenda c'è la missione multisettoriale in Cina, Shanghai, dove è attivo uno dei 54 uffici della presentanza BPS. A Shanghai, dove oramai da parecchi anni abbiamo un ufficio di rappresentanza, è un evento che anche questo abbiamo organizzato per sostenere, aiutare le nostre aziende a esplorare nuove opportunità di business in un paese grande e importante come la Cina.